bene cari amici buonasera 23 aprile 2017 21 e 30 quartiere libertà via bovio fantastico e non c'è domenica che non si rispetti il divieto di conferimento domenicale più più dite voi dai abbiamo legno divani legno buste buste per terra cartoni perché non ci sono i contenitori della differenziata in via bovio abbigliamento rovistato ancora cartoni e tutto questo per una bari per bene controlli zero controlli inesistenti e tutto va bene andate a cacare